Un'altra parte femminile, come vedete sono già ai blocchi, pronti? Eccoli partiti. Vedremo poi come si contenderanno così il mercato di traguardo e la vittoria nel tempo. C'è già il primo passaggio, tra te e me stiamo già fissati in questo modo, c'è anche la frase del pubblico, so che siete stati, so che vediamo più o meno di un bel apposito e poi già vi faccio un applauso, visto che questo dovrebbe essere l'ultima strafitta a giovanile e poi vediamo se vogliamo ripetere ancora qualche. Vediamo la vostra collaborazione, che sono i quali per la taglia, quando trasferono avanti, bravi, quindi tutti ci sono anche bisogno, guardate che grazie a tutti a questa volta, bravo, qui c'è anche la parte di Alcimia, con un po' più alto, eccoli per l'ultima forza vista, che sembra chiudere un pochino anche questa attenzione, bravi. Ok, partiti, eccoli qua, sottoccianti, c'è anche la partita femminile della cedra, che è stata inserita, li vediamo già al primo cambio, abbiamo già posato questi ruoli, ok, si vanno spettiti, procedono per lì, il nostro gatto, un po' più evidente, ok, li vedremo raggiungere, la donna, che guardo qua, davanti a noi, che avrò poi anche, in tutti i miei proiezioni, appena ho bisogno di staccarmi, poi a seguire, c'è naturalmente, la chiusura, con la marcia, che concluda, questa giornata, denso di accadimenti, denso di proie, e da qui andiamo, con il pochino, 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 oggi questo, vi darò il tempo, e vi darò anche, buonissimo, con i tossicoli sociali, un'alternetta per Cimbra, no, e in Regna, è un buon intervento.